... Sono 53 gili a percorrere, le strategie prevedono due soldi, non potrebbero anche essere tre. E ora andiamo, stiamo sulla monoposto, il Lassinuro Rosso, chiamato 150 Italia. C'eravamo qualche istante fa, era quello di Fernando Rosso. Attenzione perché ormai siamo pronti a vedere le ultime vetture. Attentiamo la bandiera verde, attenzione. Bandiera verde in fondo allo schieramento di partenza, i semafori che si accendono in sequenza. Apera! Apera! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti